Ciao, sono Stefania Corrado e sono una personal chef. Oggi siamo alla Fashion Kitchen allestita per Milano Food Week e ho preparato un risotto con caprino e pasta di salame insieme a Prime Alture, che è un wine resort che produce vini nell'oltre popavese. Il motivo per cui ho scelto di preparare questo riso con ingredienti legati al territorio. È un riso molto semplice, realizzato senza soffritto e presto troverete la ricetta sul mio sito che è www.stefaniacorrado.it Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!